Questi i titoli del telegiornale che parte tra pochissimo, cimitero di Siracusa e domiciliari il direttore accusato di abuso d'ufficio, terremoto in Turchia e in Siria, lo tsunami danneggia una spiaggia a Portopalo, vicenda di AS, c'è un nuovo emendamento presentato al Senato, Matteo Messina Denaro, quelle impregazioni davanti a Capaci, l'autostrada, morti sul lavoro, dati preoccupanti in tutta la Sicilia, a Catania si conclude oggi, anzi si è conclusa la processione di Sant'Agata. Inchiesta a Portopalo di Capopassaro, il sinnaco Montoneri, sono amareggiato. Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, apriamo con la cronaca, come abbiamo sentito dai titoli, è stato arrestato il direttore del cimitero di Siracusa e anche un operatore. devono rispondere, tra le altre cose, di concorso in induzione in debita, abuso d'ufficio, falsità documentale e sottrazione di cadavere. I particolari nel servizio. Sono finiti a domiciliari il direttore del cimitero Fabio Morabito e un operaio, Marco Fazzino, coinvolti in un'inchiesta della procurazione Tusea. I due indagati sono accusati in concorso di induzione in debita, abuso d'ufficio, falsità documentale e sottrazione di cadavere per un profitto quantificato in oltre 60 mila euro. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa ed eseguito dagli agenti della squadra mobile per un'indagine in cui sono state coinvolte e indagate a piede libero altre 11 persone. La vicenda trae spunto dalla denuncia di una delle vittime che, vivendo ormai lontana da Siracusa, rientrando in città durante le festività natalizie del 2020, si era accorta che la cappella di famiglia del cimitero comunale, in cui erano state tumulate le salme dei propri congiunti, era ormai occupata da altri defunti. Le attività investigative della squadra mobile avrebbero rivelato un sistema per il quale gli indagati sono stati capaci di indurre i privati, che avevano urgenze di dare sepoltura ai loro carestinti, a versare somme di denaro allo scopo di eludere le lungaggini e le procedure di evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione legale dei loculi e delle cappelle. Secondo quanto sostiene la procura, il direttore e l'operario del cimitero avrebbero intascato il denaro necessario per l'assegnazione dei posti, rilasciando ai privati falsi titoli concessori, sfruttando illegalmente gli strumenti giuridici della decadenza del possesso ai loculi in stato di abbandono, avrebbero quindi estumulato in concorso con altri quattro impiegati comunali le salme per fare posto ai nuovi defunti e fare fronte così al pagamento cospicuo di denaro. Gli sviluppi giudiziali sul cimitero ci lasciano sbigottiti, ha detto il sindaco Francesco Italia, ma allo stesso tempo determinati nel chiedere che si faccia luce nel più breve tempo possibile. Auspichiamo che gli accertamenti in corso dissolvano ogni altro sospetto su una vicenda che colpisce la sensibilità di tante famiglie siracusane. E adesso parliamo del terremoto che ha interessato una parte della Siria e un'altra della Turchia. Si è temuto uno tsunami, l'arrivo di uno tsunami nelle coste siciliane e così la protezione civile ha diramato lo stato di allerta. Lo tsunami è arrivato per fortuna in maniera molto, molto lieve. A seguito del terremoto che si è verificato tra la Siria e la Turchia di magnitudo 7.9, l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ha emesso un allerta a tsunami informando che l'onda d'impatto sarebbe dovuta arrivare sulla costa siciliana alle 6.35 su Siracusa, alle 6.39 a Catania e alle 6.40 a Messina. Secondo le previsioni a seguire l'onda avrebbe dovuto impattare in altre parti della Sicilia, compresa Palermo. Il Dipartimento regionale di protezione civile della Sicilia ha invitato quindi i cittadini a allontanarsi al litorale, bassi da zone portuali, di avvisare la popolazione e porre la massima attenzione. Ma con il passare delle ore l'allarme è stato ridimensionato. L'altezza di onda anomala misurata in Turchia dopo i violenti terremoti che stanno scodendo l'aria è molto più piccola del previsto e pari circa 15 centimetri. Tuttavia i mareografi misurano successive onde probabilmente causate da ulteriori scosse. Pertanto l'allarme pur dimensionato permane, è affermato il direttore generale del Dipartimento regionale di protezione civile Salvo Cocina che è in costante contatto con la protezione civile nazionale di Roma. Tramite la sala operativa e i dirigenti provinciali il Dipartimento ha attivato il sistema regionale ed è in contatto con le prefetture dell'isola e con i sindaci dei comuni costieri. Diffuso anche un avviso di consigli in caso di maremoto. In realtà alle 7.22 l'allarme è stato revocato sulla base dei dati elaborati al centro allerta tsunami del INGV. Dopo il ridimensionamento dell'allarme tsunami una nonda leggera è arrivata intorno alle 7 sulle coste del Siracusano, a Portopalo in particolare, ma non si registrano danni. La protezione civile monitora la situazione ripresa allegolarmente la circolazione ferroviare in Sicilia, Calabria e Puglia dove era stata sospesa a scopo cautelativo alle 6.30. Un'onda lomana è arrivata, è arrivata a Portopalo. Abbiamo le immagini, si è abbattuta intorno alle 7 sul litorale e ha quasi del tutto divorato un arenile, la spiaggia di Contrada d'Acollo. Vediamo queste immagini. L'allerta ai sindaci siciliani è scattato alle 4 del mattino dal Dipartimento di Protezione Civile della Sicilia, è arrivata la comunicazione del sisma che aveva colpito la Turchia e la Siria e del possibile tsunami che la forte scossa avrebbe provocato e che se temeva potesse arrivare nelle coste della Sicilia. Il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri, insieme con il comandante della polizia municipale, si sono regati all'alba nelle contrade di campagna e lungo il litorale per avvertire residenti a non addossarsi lungo la costa proprio per il timore di onde anomale. Le immagini che vedete sono state girate intorno alle 7 del mattino quando un'onda anomala è comunque arrivata lungo la costa di Portopalo. Uno tsunami che per fortuna non è stato devastante ma ha provocato danni e l'arretramento della spiaggia. Le immagini si riferiscono infatti alla baia di Contrada Collo dove le onde si sono abbattute sulla ranile divorando buona parte della spiaggia. Il mare si è alzato di oltre 15 centimetri riversandosi sulla battigia con le sue ondate molto lunghe. L'onda anomala non ha provocato danni alle persone e subito dopo essere arrivata è rientrata nella normalità con il mare che comunque è rimasto mosso per l'intera mattinata. Rimaniamo a Portopalo ma parliamo dell'inchiesta che ha coinvolto due consiglieri comunali e l'ex consulente del sindaco Gatano Montoneri che questa mattina ha voluto parlare. Si dice amareggiato. Sentiamolo. Saranno interrogati domani dalla GIP del Tribunale Aretuseo i due consiglieri comunali di Portopalo dell'ex consulente del sindaco coinvolti nell'inchiesta della procura di Siracusa relativa alla tentata concussione ai danni di alcuni imprenditori in attesa di comprendere quale sia la linea difensiva adottata dal legale difensore dei tre indagati. Questa mattina il sindaco di Portopalo Gatano Montoneri ha spiegato a chiare lettere la genesi dell'inchiesta e ha tenuto a precisare di non aver denunciato alcuno degli indagati. Ribadisco che io e le amministrazioni precedenti e l'attuale non abbiamo denunciato nessuno che ho soltanto a seguito delle scritte anonime ingiuriose nei miei confronti e dell'allora assessore dottoressa Caschetto allora avevo sporto denuncia contro ignoti. Il primo cittadino auspica che i tre indagati possano dimostrare la loro estraneità ai fatti oggetto della contestazione. Ci auspichiamo vivamente che gli interessati del procedimento in questione messo in atto dagli organi competenti possano provare la loro estraneità ai fatti e di conseguenza possano essere sciolte le riserve nel loro riguardo. Sul caso Portopalo faremo un approfondimento in coda alla telegiornale con un'intervista un po' più articolata proprio al sindaco Montoneri. Intanto ci trasferiamo a Priolo dove la vicenda IAS e il senatore Antonio Nicita che ci riprova e ripropone l'emendamento. Stavolta come modifica l'articolo 6 del decreto ILVA si tenta insomma di salvare l'intera zona industriale siracusana. Sul caso IAS il Partito Democratico ci riprova dopo la bocciatura dell'emendamento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce l'impianto ISAB come di interesse strategico nazionale. Il senatore Antonio Nicita ripropone la questione del depuratore consortile di Priolo. A suo giudizio il riconoscimento del depuratore sotto sequestro come bene strumentale allo stabilimento industriale per garantirne la continuità produttiva è una soluzione complicata, parziale e rischiosa per la soluzione del sequestro IAS. Complicata perché per intervenire sul sequestro dell'impianto il Governo fornisce nel giro di poche settimane una nuova qualificazione dell'impianto ISAB. Non solo impianto e infrastruttura di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi come nel decreto LUCOIL ma adesso impianto di interesse strategico nazionale. Da queste considerazioni il senatore siracusano ripropone l'emendamento stavolta come modifica l'articolo 6 proprio del decreto ILVA prevedendo una piena autonomia tra azione del Governo e azione della Magistratura e un loro coordinamento e dunque una più forte attenzione sui temi ambientali. Nell'emendamento PD il commissario nominato dal Governo e i commissari nominati dall'autorità giudiziaria esplicitamente possono imporre in ricezione dell'impianto a valle prescrizioni che indirettamente riguardano nuovi impianti a monte di pretrattamento di terzi affrontando così il tema delle emissioni. L'impianto IS è funzionale a ISAB ma i problemi ambientali sul pretrattamento riguardano anche imprese terze che possono realizzare i propri impianti in teoria anche andando oltre a esse. L'emendamento così riproposto dal PD sarà discusso in settimana in un quadro di semplificazione, certezza giuridica, autonomia dell'azione della magistratura e tutela dell'ambiente e dell'occupazione. È diventato virale l'audio di Matteo Messina Denaro che imprega contro la celebrazione del 23 maggio a Capaci, giorno in cui si ricorda la morte di Giovanni Falcone, della moglie e degli uomini della scorta. Sentiamo. Io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate, sull'asfalto e non si muove per le commemorazioni di sta con chiaro riferimento al membro umano. Così il boss Matteo Messina Denaro il 23 maggio, giorno delle commemorazioni della strage mafiosa di Capaci, costata la vita, il giudice Giovanni Falcone esprimeva in una chat con alcune pazienti conosciute durante la terapia oncologica il suo fastidio perché a causa delle celebrazioni era rimasto bloccato nel traffico. Porco mondo impregava nel messaggio registrato che l'Ans è in grado di pubblicare e concludeva qua mi sono rotto i di brutto. Messina Denaro, che non avrebbe rivelato alle donne la sua identità, raccontava loro della sua malattia e si confidava. Sentite questa, anche se io parlo a plurale, comunque, ma non è che sappiamo dov'è, non lo so, o dorme ancora o chissà quel che fa, comunque questa telefona ne prende stamattina e io qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non bucate, sull'asfalto non si muove per le commemorazioni di sta minchia. Mi sento abbandonato come un randaggino con una gamba spezzata in mezzo a una pozzangra durante questa notte di Natale, tutto questo per me è squallido, avrei bisogno di affetto, ma è giusto rimosinare affetto, scriveva in uno dei messaggi il boss che aveva raccontato di essere un imprenditore divorziato, riferisce di un desiderio espresso dalla madre. C'è Anna, sarebbe la ragazza che sta assieme a mia madre, diceva, ieri sera mi cercava e ha trovato un foglio scritto di pugno di mia madre e si rivolge a me dicendo che quando sarà morta al suo funerale, ma chi lo dice che io muoio dopo di lei, lei non lo sa questo, ma lo so io, commenta, vuole la banda musicale, che deve suonare un unico motivo, la marcia del Kaiser, quella che fanno a Vienna per il Capodanno, e quindi ora vuole sta cosa, allora si deve fare, diceva ancora Matteo Messina Denaro in una chat, perché le volontà delle persone si mantengono. Adesso parliamo di un argomento che è di attualità assoluta, morti sul lavoro in Sicilia, è allarmante il dato che riguarda il 2022, pensate, nella provincia Siracusa gli infortuni fatali sono addirittura raddoppiati. È sempre allarmante il dato riguardante le morti sul lavoro in Sicilia, dove sono stati 50 casi nei primi dieci mesi del 2022, ancora un numero troppo alto, drammatico, che rispecchia perfettamente l'insicurezza, la mancanza di adeguata protezione sui luoghi di lavoro. Siracusa, con sei decessi nei cantieri della zona industriale, è un indice del 46,2%, segue Catania, che è la provincia in Sicilia con maggior numero di decetuti, 14 nei primi dieci mesi dell'anno, è un indice del 50,6%, poi Palermo, con otto decessi, è un indice del 25,1%. Messina si trova molto più in basso nella classifica nazionale, all'ottantunesimo posto, con tre decessi, è un indice del 18,4%. Un po' ovunque si conferma il trend negativo del 2021, come per le province di Palermo e Catania in particolare. A Siracusa, situazione allarmante, con gli infortuni mortali raddoppiati, che portano la provincia per incidenza al ventunesimo posto in Italia, con sei decessi nel 2022. Secondo i dati INAIL, elaborati dall'osservatorio sicurale dell'Ottobre 2022, le uniche regioni bianche sono la Liguria e il Fiuli Venezia Giulia, in giallo il Lazio, l'Abruzzo, la Sardegna, l'Emilia Romagna, in arancione, insieme alla Sicilia, ci sono la Lombardia, il Veneto, la Toscana, le Marche, la Campania, la Puglia e il Molise. Adesso parliamo della festa di Sant'Agata, La festa che si è conclusa questa mattina alle 12.30 Una processione che ha in qualche modo dato la possibilità a tutti quanti di seguire la Santa durante tutta la strada, della nottata in qualche modo è trascorso e poi c'è stato anche l'annuncio da parte della protezione civile del terremoto alle 4.00 del mattino e c'era appunto la processione in corso. I fuochi d'artificio sono arrivati soltanto alle 6.40 al borgo, in cui quest'anno si è aperto proprio la giornata. Alle 4.00 del mattino, dicevamo, c'è stata questa allerta a tsunami, diramata dalla protezione civile, poi è rientrata. Dopodiché il percorso è proseguito in Via Tenea, dal borgo fino a Piazza Stesigro, un momento di sosta di preghiera perché questi sono i luoghi del martirio. All'incrocio dei quattro canti, la pausa tecnica più importante per le monomere necessarie a consentire la salita che poi è stata percorsa in maniera molto spedita. Via Crociferi, ancora folla di devoti sul fercolo per questi particolari momenti di processione oltre al pargo della cattedrale, Monsignor Barbaro Ascionti, anche l'arcivescovo Monsignor Luigi Renna che ha confermato l'impressione fin dal suo arrivo che le celebrazioni sono importanti e lui è il pastore della chiesa di Catania, un pellegrino in mezzo a tanti devoti. Tantissime le persone, poi i gremiti, diciamo, in Via Crociferi e poi l'arrivo alle 12.30 in cattedrale, il rientro del fercolo con le feste conclusive. Adesso andiamo allo sport. Si fa davvero interessante il girone B del campionato di eccellenza di calcio, una giornata fondamentale per le ambizioni del Siracusa che si rifà sotto. In testa c'è sempre la nuova Egea Virtus che ha impattato a Lentini contro la Leonzio. Sentiamo tutto in questo servizio. Il Siracusa infila tre reti al Forte Modica davanti al proprio pubblico e si porta a soli due punti dalla vetta, approfittando del pareggio della nuova Egea Virtus in casa della Leonzio. Gli azzurri dominano la gara e si impongono per 3-1. Allo stadio Nicola De Simone presenti 1.500 spettatori. Avvio sprint dei padroni di casa in vantaggio già al quinto minuto con Ficarotta su assist di Belluso. Passano sette minuti e Maimone serve all'ex attaccante del Ragusa la palla del 2-0. Azzurri in maglia bianca decisamente più in palla e vicini al gol in almeno altre due occasioni ma nel finale del primo tempo ad andare a bersaglio e la squadra ospite con Agodirin su traversone di Scugli. Il Siracusa ristabilisce le distanze al quarto d'ora della ripresa con la splendida rete su punizione di Ficarotta che dalla distanza indirizza la palla all'angolino alto. Finisce 3-1 per la squadra retusea che festeggia insieme ai numerosi tifosi presenti allo stadio. È andata male e al Real invece sconfitto a Milazzo per 1-0. Ancora peggio ha fatto il Palazzolo che prosegue la stagione negativa nonostante gli ultimi arrivi nella rosa la compagine palazzolese è stata sconfitta in casa per 1-3 dalla Nebros. Bene invece è la Leonzio che è riuscita a fermare sul pareggio a reti inviolate la capolista Nuova Igea facendo un gradito regalo al Siracusa. In vetta si mantiene anche il Taormina terzo ad un sol punto dagli Azzurri dopo aver vinto facilmente in trasferta per 0-2 con il fanalino di coda Virtus Ispica. Con lo sport si guida questo telegiornale ma state con noi adesso la rubrica l'approfondimento lo avevamo anticipato prima il sindaco di Portopalo che ha tenuto la conferenza stampa noi abbiamo fatto una intervista che seguiamo insieme per quanto tanto ci riguarda ci vediamo alla edizione delle 19.30. Sono molto amareggiato e dispiaciuto anche e umanamente molto dispiaciuto do il mio sostegno umano a chi ha avuto questa disavventura spero che riescano a dimostrare l'estranità in questa triste vicenda e che possano ritornare in comunità. Per quanto riguarda l'inchiesta dice io non ho denunciato nessuno. Non ho denunciato nessuno, lo ribadisco. Ho solo fatto il mio dovere di sindaco, di pubblico ufficiale quando questo imprenditore mi disse che aveva presumibilmente subito pressioni io ho fatto solo il mio dovere non è un dovere, è un obbligo di legge ho per le vie brevi riferito all'ora tenente russo, adesso capitano che avevo sentito questa basta da lì io e l'amministrazione non abbiamo mai più parlato di questo argomento sono stati gli imprenditori che hanno da quello che abbiamo saputo dai mass media che ci sono state queste intercettazioni ambientali e quant'altro e che gli organi inquirenti appunto alla fine hanno emesso provvedimento perché anch'io non mi viene nemmeno di dire quello che... Io parlavo anche di scritte sui muri. Il partito tutto da allora quando c'è stata, diciamo, la separazione politica che ci fu il cambio amministrativo ci furono delle scritte molto ingiuriose nei confronti miei e dell'allora assessore, la dottoressa Caschetto quindi ho dovuto anch'io sporre denuncia e ad oggi non so chi le ha scritte. Lei diceva che Ponti Amareggiato è quanto ha inciso sulla sua non candidatura alle prossime amministrative? Ha influito parecchio perché io preferisco uscire in punta di piedi come sono entrato ritornarmene in buon ordine e augurare al mio successore di far meglio di me. Grazie a tutti i nostri spettatori